Sindaco, cosa cambia nel suo comune con la sua elezione a sindaco? Ma guarda, diciamo che la nostra è stata una lista più che altro di continuità rispetto anche all'amministrazione precedente dovuto al fatto che io ero vice sindaco uscente, quindi la prerogata è stata la continuità di un lavoro svolto nei primi cinque anni insieme all'ex sindaco Santoro e una persecuzione con la mia ricandidatura, vista la sua non candidatura per motivi poi più che altro personale. quindi c'è una continuità del lavoro svolto e quindi della semina fatta nei primi cinque anni e quindi i frutti si spera di raccogliere in questi prossimi cinque anni. Bocchigliero è un comune che ha tanta tradizione, ha tanta cultura, la mettete in campo? Sì, questa è una delle linee programmate che abbiamo previsto nei prossimi cinque anni, tant'è che proprio pochi giorni fa abbiamo presentato un progetto che ci poniamo, diciamo, l'ardire di porlo come candidatura all'UNESCO che è il nostro rito del maio che oltretutto concorre nelle festività di San Rocco che sono proprio in questi giorni in svolgimento, 19, 20 e 21 agosto quindi è un'iniziativa che potrebbe essere un attrattore veramente forte per attirare gente anche nel nostro piccolo borgo. I giovani sono predisposti a rimanere nel proprio comune? Sì, ci sono, c'è un bel numero di giovanotti che vorrebbero rimanere, certo dipende dall'amministrazione e dalle condizioni che noi stessi come amministratori riusciamo a creare affinché continuano a rimanere nel nostro piccolo borgo. Dal punto di vista economico qual è la situazione? Guarda, nei primi cinque anni, dicevo, della prima precedente amministrazione abbiamo avuto un po' di difficoltà economiche quindi la linea è stata un po' risanare quella che era un po' la situazione di Belagio. Oggi credo riusciamo a vivere una situazione migliore. Ci sono purtroppo ancora delle pendenze in essere per situazioni pregresse di quasi oltre vent'anni però la situazione di Belagio ci consentirà di attuare un po' quello che è la programmazione prevista. Una scommessa tutta da giocare? Esattamente, una scommessa che credo e la voglia di vincere sicuramente c'è.